Adesso stanno entrando i panchini per ricordare Andrea Amari, e 8, abbiamo la distruta, abbiamo i panchini, 8 e 8, quindi della Croazza e del Paglio. Viedo al Supremo Magistrato del Paglio di raggiungere il Gran Maestro del Collegio dei Capitani delle Contrate. Andrea Amari, il 17 maggio 2021, in seguito ad un incidente d'auto, ci ha lasciato Andrea Amari, detto Brio, uno dei fattini che ha fatto la storia più recente del Paglio di Regnano. Brio aveva esordito Regnano nel 2001, correndo la provaccia con i colori della contrada San Terato. Tra il 2008 e il 2018 ha corso per 9 volte a Regnano, per le contrade San Domenico, 2008-2009, San Martino, 2010-2016, 2017-2018, Sant'Ambrogio, 2013-2014-2015, vincendo poi nel 2016 per la contrada San Martino. Dal 2019 Andrea era ritornato a far gioire il popolo bianco-azzurro, che lo aveva tenuto a battesimo ed era diventato fattino ufficiale della contrada San Terato. Andrea era un grande professionista, con un talento immenso e un amore infinito per i cavalli. Era un fattino speciale, che sapeva accendere i popoli, creare l'entusiasmo e far avvicinare ed innamorare le persone al Paglio. Ma ciò che rendeva Andrea unico era il suo carattere gioioso, scanzonato e pieno di vita. Andrea riusciva a portare in contrada il vero volto della festa, della gioia di stare insieme e divertirsi in compagnia. Era l'unico grande fattino del Paglio che non parlava di Paglio. Lui, che era il più grande di tutti, a fare il Paglio. E tutti lo amavano, non esistevano colori, non esistevano nemici, perché nelle contrade in cui era stato continuavano a volergli bene e lui a tenere buoni rapporti con le persone, dal capitano al ragazzo che faceva il turno al bar. E quando andavi a trovarlo nella sua bellissima casa a Vescovalo, anche senza preavviso, lo trovavi sempre insieme alla sua Ilaria, ad accoglierti con il sorriso e con un bicchiere di vino e un pezzo di buon formaggio. Andrea ce l'ha lasciato il 17 maggio 2021, ma non sarà mai dimenticato dal Paglio di Regnano e continuerà a vivere nei cuori di tutte le persone che lo hanno conosciuto. Invitiamo Ilaria a raggiungere il Gran Maestro del Collegio dei Capitani delle Contrade e il Supremo Magistrato del Paglio per la consiglia della casa di Matteo Maraglio. E quella, Ilaria, non c'erano il colore a me il cuore mai sulla puntata. Grazie. 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 Ricordiamo la composizione delle due batterie, prima batteria San Magno, Sant'Erasmo, Sant'Aprogio, Legnarello, seconda batteria San Domenico, San Magno, La Flora, San D'Avino. E con l'uscita e l'oro chiudiamo e aspettiamo la prima batteria del Memorial Pave 2021. Allennano!